Seconda, fondamentale, vittoria consecutiva per il Mr. Jeff. Dopo aver vinto lo scontro diretto con la selezione romana, gli uomini di Mr. Ricci si riavvicinano prepotentemente alla zona playoff, battendo alla Longarina una delle squadre più in forma della Lega, la Roma Calcia 8. Mr. Ricci evidenzia a fine partita l'importanza di poter disporre di tutti gli effettivi in questi scontri diretti. Quando siamo al completo, quando c'è tutta la rosa a disposizione, anche se poi eravamo nove, perché poi era l'ultima stanza di Gianluca, del capitano, la squadra gioca con una fluidità al centrocampo, propone in avanti. Il 4-1 ha messo in evidenza due distinte prove di forza dei bianconeri. La prima nel primo tempo, in cui Francucci e Zanni allungano sul 2-0. La seconda dopo il 2-1 di Klaus Seferi, momento di potenziale difficoltà risolto dal 3 e dal 4-1 di Bonanni e Liberti. Siamo molto soddisfatti, oggi sono molto soddisfatto dalla squadra. Quando mi lamento è giusto, ma oggi è una buona partita. Dopo questi sei punti, il Mr. Jeff è ora chiamato al trittico che le pone di fronte le ultime tre squadre della classifica. All'Italia, Emmers e Lazio Calcio 8. Ricci sa bene che questi sono impegni che il Mr. Jeff non può permettersi di fallire. Diciamo, puntiamo ai sei punti, perché le partite poi non è mai semplici, però sono sempre problemi. Quindi puntiamo almeno a fare sei punti, sicuramente sei punti. Il settimo sarebbe ottimo, vuol dire che non abbiamo mai perso. Mancano due mesi alla fine della regular season. Il Mr. Jeff si è rimesso in scia del treno playoff. Ora bisogna salire a bordo.